a rieccoci per l'ennesima partita oggi non le sto vingendo neanche una come ieri adesso vi mostro il milan neanche fa la posta dopo due tre parti ho trovato un utente che porta il milan e quindi gli ho messo la maglietta leggendare del milan vediamo anche questa come va visto che sono due giorni che prendo solo imbarcate ne sto provando tutta allenatori giocatori tattiche impostazioni tutto niente non va non va e niente non devo vincere neanche uno non so più chi cazzo fa giocare sinceramente prendiamoci poi stata imbarcata così mi faccio vedere le magliette delle sultanze del milan durante soltanto del milan sto provando tutti allenatori tattiche il giocato che vanno più veloci dei miei io non lo non so capendo che cazzo mi sta succedendo vabbè vabbè ci lamentiamo la ma è quest'anno è andata quest'anno come la piazza quest'anno più degli altri angoli non sto capendo più cazzo quest'anno non sto capendo più cazzo vabbè sono diventato molto più scarso di quello che possa quello che ti già lo posso già ben se ciao oggi ci rocco cerchiamo di concentrarci alla meglio e porto lettera e porto lettera se io non lo so più che cazzo me vedo dei giocatori agli avversari che vanno a 3 mila vanni non so più chi cazzo fa giocare guarda come cazzo sono distanti gli attaccanti cazzo qua vabbè infatti al battalanta vince una zia non c'è molto più di questo non c'è chi fa battere non c'è chi fa battere il calcio d'angolo siano guendo z e mi salta nessuno niente guardate come cazzo corrono se qualcuno mi può aiutare in questo mi potete dire se ci sono dei trucchetti se c'è una cosa che devo fare devo impostare, io non capisco io non capisco perché tutti fuori gioco tra l'altro volano e io li pompo i giocatori, li pompo, li pompo li pompo, li alzo di livello, vgg io non so più che cazzo fare qualcuno gentilmente mi può dare un consiglio per favore, perdere va bene ma guardate sto perdendo con chiunque questi vip e non li fa vedere quindi sarà difficile vedere un po' di maglia portiere fermo fermo e ci è captain america guardate che aggressività che gioca avrà già già pressing boh non ho visto come esempio non vedo mai queste cose maledetta a me e che compaiono solo all'inizio della partita e prendi guardate guardate sembri indemoniati sembrano niente boh mi giochi in anticipo e perdo la palla voglia mai è una cosa incredibile io è una cosa incredibile maledetta la moe perché da buchinare davanti ma le idee niente questo non le vuole passare ma il mio mano è lì ci apprendono guarda quella dove se ne è andato non so più che cosa commentare ma come si fa di che questi sono partiti di calcio come si fa dire come si fa non potessi lamentare come cazzo si fa ma fatemi vedere queste schemi sta usando almeno fernando santo scusa che ho usato io prima un'altra partita prima è pareggiata all'ultimo così io non so più che fare niente guarda sto cazzo di gioco non ti permette di madonna mia 96 ma dritto non me ne sono accorti niente non ne prendo uno non hai tempo di ragionare sta male madonna mia ma è una gioia a me io solamente posso prendere i gol con l'imbalzo c'è matta guarda di bacca se funziona quest'anno ma niente quest'anno manga pu cazzo guarda 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 indemoniate salta niente io sono sfortunato in questo gli altri lo fanno come si g il bongo c'è guarda io io c'è io posso capire di perdere per la ciuccia ma vedere van di terzino sinistro con cola sinac che avrà sbagliato dc rodri cls ma questo che cazzo ma non lo so stare a facendo qualche cambiamento vabbè se dovessi perdere con una cosa del genere renditi conto come cazzo fanno schifo gli algoritmi di konami porca troia tu lo devi fare andare a puttane a quello la squadra no facciamo andare a puttane la squadra di nico ma no la legistrata beh pareva strano non so che cosa volesse fare ma cosa come cazzo gioca un che cattiveria gioca questo ma che cazzo ciao madonna mia madonna mia niente non è becco una ma quell'altro che sta da giocato sulla bandierina sta non è becco di gioco no perché sta giocando sulla bandierina quello ma ne if che dovrebbe volare oh niente non fa un cazzo mi sta sul cazzo l'anno scorso e mi sta sul cazzo quest'anno oh niente novantanove oh novantanove ma di che mamma mia ecco madonna mia niente oh niente non va non va io non so più che cazzo mettere lettera a lettera b lettera g che cazzo devo usare come giocatore ne ho 750 cioè boh poi dico ma tu ti usa sempre gli stessi ma porca puttana uh ma porca troia uh ma dove cazzo la da quell'altro i dagli uno di pochi che scende oh e adesso continua ancora a essere capitano a me non l'intro niente e prendi la madonna mia ma come cazzo è che ha meglio uno e due questa madonna mia madonna mia niente col cazzo lo salti a quello fermo casini cazzo cazzo letta a dovrebbe volare e vabbè ciao e non gliela fischiato paola a me fischi più di gioco che neanche gliela do la palma e le deve fischiare ma qua ma guarda guardate 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 pazzesco no e dove cazzo che l'ha dato no madonna mia ma che sta a fare dei light la ma che sta a fare dei light la non 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 a me vi siete visti le maglie io non le vinco più non le sto vincendo più non le sto vincendo più guarda come sta ogni volta che gioca vabbè che cosa devo commentare non riesco a commentare un cazzo facciamo così facciamo così 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 proviamo che cazzo devo dire non è andato niente niente e Ness mi ha sconfitto anche mamma mia sto perdendo tutto ma mi lo deve il culo a perdere con uno come questo non è andato che è morto vediamo se sta male nessuno qui possiamo giocare di pressing contro il piede lui il difensivo lui il difensivo lui guarda un po' che non mi ringhia la palla pazzesca guarda che è arrivata la palla niente niente ma proprio un rimbalzo a me niente guarda 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 rigore guarda 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 guard guardate a quelli come sono ancora aggressivi guardate ma vaffanlino meh trimone e io ho lasciato il joy padangolo di capire raga io non ho vinto ancora la prima del giorno sperando speriamo di essere sceso sotto i 700 tra un po inizio il match day così andiamo sotto andiamo all'intermedio perché oramai così vuole essere nominata Konami grandissima figlia di puttana l'altra partita che avete visto se avete visto quella partita precedente del video si inventa le cose assurde questa non ne parliamo vabbè ma non sarebbe neanche un 600 700 sarà questo io non so più che cazzo far giocare io non so più chi cazzo far giocare chi cazzo far giocare non so più veramente ah 780 raga io le ho perse tutte tutte le ho perse tutte tutte le ho perse 654 partite pure queste tutti i video che sto portando hanno oltre 600 partite ma di che cazzo vi fate boh io le ho perse tutte ho perso 50 punti ragazzi 60 punti ero arrivato a 7,50 qualche giorno fa non ho vinto ancora la prima del giorno quindi adesso aspettiamo i match day forte sega tanto rama è andata ah ok grazie Konami tutte le ho perse vi faccio vedere tanto non è che vi dico tutta 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 mi ha brillo lettera non è lì e va bene però porca troia ma guardate un po' c'è 21 livelli su 34 dove sta velocità 89 oggi non è un gran che non fa giocare lettera ma vai a cagare va ma vai a cagare vi invito sempre se volete iscrivervi alla pagina pes fan club saluto tutti sono le 4 guardate 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 2 a 1 2 a 2 sempre la coppa c'è un giolai una bagatissima 3 a 1 vabbè qui su 2 a 1 poi mi sono scassati i coglioni perché mi è successo di tutto 2 a 3 la partita che avete visto online vabbè sim sim 3 a 2 ho vinto ieri 9 a 3 ho perso che sia chiaro qui sul 5 a 2 ho mollato perché non si riusciva a giocare a questo non è che volavano sembrano che le erbe neanche la toccassero sconfitta 5 a 1 anche qui ho mollato sconfitta vedete ma ci dè 1 a 0 pareggio sconfitta ride per non piangere conami ma vattene a fancura vai ciao ragazzi ciao